I conti non tornano a Palazzo Mosti, la minoranza torna ad attaccare l'amministrazione sulla gestione del dissesto e in un incontro chiarisce che la relazione fornita qualche settimana fa dalle ispettrici dell'organismo straordinario di liquidazione conferma le preoccupazioni già espresse. La relazione ministeriale contiene dei rilievi veramente molto gravi, basterebbe pensare alle espressioni che hanno utilizzato. La commistione fra la gestione del dissesto e la gestione corrente, secondo le ispettrici ministeriali, ha portato ad alterare gli equilibri di bilancio a risultati che sono stati ritenuti addirittura fittizi. E poi c'è una cosa immensa, avrebbe detto qualcuno la mucca nel corridoio, qui sono stati pagati 21 milioni di euro al di fuori delle procedure di legge previste per la gestione del dissesto. Rilievi per i quali l'opposizione ha annunciato una richiesta di accesso agli atti. E' stata violata la parità di condizione fra i creditori, alcuni sono stati pagati prima e meglio, altri saranno pagati dopo e peggio e questo naturalmente è un elemento sul quale dovremo ritornare perché chiederemo naturalmente l'elenco di tutti questi creditori che sono stati soddisfatti senza l'autorizzazione dell'organismo straordinario di liquidazione e io penso che ci saranno delle conseguenze. Grazie. 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 Grazie.